Ben trovati, aggiornamento con il TG di 3B. Partiamo dalle immagini satellitari perché possiamo notare questo vortice ampio depressionario a nord delle Alpi che nelle prossime ore raggiungerà l'Italia, venerdì, con temporali anche severi. Nel dettaglio quindi la giornata di venerdì intanto in serata temporali sul nord-est. Domani invece interesseranno tutto il centro-nord dentro pomeriggio. Abbiamo segnalato con i colori viola le aree dove saranno più forti i temporali anche con rischio grandi nate. Poi i temporali verso la serata interesseranno Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania con forti venti di maestrale. Per quanto riguarda il weekend sabato ritroveremo ancora questo minimo depressionario. Quindi prevediamo nel corso di sabato delle precipitazioni in mattinata sul nord-est al centro-sud e tenenza a un graduale miglioramento al centro-nodo nella seconda parte del giorno. Temperature in calo anche al sud perché i venti saranno disposti da tramontana e maestrale. Per quanto riguarda invece domenica bel tempo un po' dappertutto mentre in serata qualche temporale di nuovo interesserà le regioni nord-orientali. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabi Meteo o visitate gli articoli sul nostro sito web.